Qui il problema è serissimo, qui stiamo in guerra, in piena emergenza, questa è una piazza di spaccio a rilevanza nazionale, non regionale, quindi una delle più grandi piazze importanti d'Italia, qui si è sparato e si è ammazzato, in questa piazza, a pochi metri da noi, non dimentichiamolo mai, per capire il dramma. La signora sta deponendo adesso, sta rilasciando le dichiarazioni ai garabinieri, è sconvolta, ha paura, è amareggiata, chiede con forza, dice almeno mettetemi una telecamera perché se mi hanno incendiato la macchina questa notte mi potrebbero fare tanto, 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 tanto di più. Io sono sconfortato, sono amareggiato, veramente non so più che cosa pensare, qui ci sono cittadini che cosa devono fare, devono versare il proprio sangue affinché si accettino le mie proposte, le mie proposte sempre le stesse. Se qui ci vuole un'unità fissa di polizia H24, quando parlo di polizia io parlo di polizia o guardia di finanza o carabinieri o esercito, ma 24 ore al giorno, solo così si può garantire la sicurezza. Vedete, questi sono cittadini onesti, persone per bene, questa è una persona per bene la titolare di questa macchina, che non ha mai abbassato la testa, con la schiena dritta, ci ha sempre messo la faccia, ha sempre cercato di denunciare così pubblicamente, di opporsi alla delinquenza, al crimine. Quindi siamo di fronte a queste situazioni, io chiedo con forza anche a questo punto al sindaco di mettere almeno subito una telecamera che punti sulla casa, sull'appartamento della signora per tutelarla, per la sua tutela personale. Ricordiamo che sette anni fa accade la stessa cosa nell'Oraspa, gli incendiarono la macchina, ingendiarono il portone di casa, gli sfondarono il portone di casa con delle martellate in piena notte, ecco noi già abbiamo vissuto queste cose. Per favore aiutateci, non lasciate soli questi cittadini.